In questa puntata di Vox Pop ci occupiamo di viabilità e inquinamento. Lo scorso 15 settembre è entrata in vigore l'ordinanza comunale che vieta l'ingresso nella zona blu pregiarese ai mezzi a benzina Euro 0, agli scooter pre-Euro e soprattutto, questa è la novità, ai mezzi a diesel fino a Euro 3. In questo momento qui siamo in via Flaminia, in un posto di blocco della Polizia Municipale che sta effettuando controlli proprio per il rispetto di questa ordinanza. Andiamo a sentire che cosa pensano i pesaresi su queste nuove limitazioni. Io penso che sia un qualcosa di positivo perché penso che l'aria sia la cosa più importante che abbiamo e viviamo grazie a questo e quindi se hanno fatto questo divieto è una cosa abbastanza positiva. Personalmente io ho un Euro 6 quindi io posso circolare anche in centro storico perché la mia macchina è nuova ma ci sono comunque anche altre cose da vedere e se vogliamo risolvere il problema dell'inquinamento che ormai non lo risolveremo più, il problema principale dell'inquinamento è dato dalla sovrappopolazione. Noi siamo 8 miliardi quindi è una cosa buona vietare l'Euro 3 ma non risolve assolutamente il problema perché questa cosa dipende dal fatto che siamo in troppi nel mondo perché la sostenibilità della terra hanno detto alcuni scienziati è dal miliardo e mezzo ai 2 miliardi noi siamo 4 volte di più. I diesel di piccola cilindrata cioè fino a 2 mila devono essere tutti buttati all'alfascio perché sono i mezzi più inquinanti che ci siano. Quindi a favore? A favore della limitazione ma io dico di più buttateli all'alfascio perché tanto andranno sempre peggio perché invecchiando i catalizzatori peggiorano. Un po' di categorie artigiani ci lamentano perché comunque magari ci lavorano. Va bene ma ci sono delle alternative, ci sono dei finanziamenti, ci sono degli incentivi, si potrebbe far pagare meno la benzina dove rubano fino al nero. I camion, cioè tutti, non nei camion solo, cioè tutti quelli motorizzati che non c'entrano niente non devono assolutamente entrare oppure entro dalle 6 alle 9. Parliamo del centro storico? Certo, il centro storico, voglio per carità. Il centro storico, questi qui, si devono caricare e scaricare dalle 6 alle 9 del mattino. Poi basta perché dà fastidio, a parte che inquinano ma non va bene così. Perciò la città e la piazza deve essere per il popolo, del popolo, cioè della gente comune. Non so perché io sono una macchina a benzina. Però perché fino agli Euro 3 a diesel che non possono piantare nella zona blu, può essere un problema. Eh sì, secondo me sì. Poi invece per chi ha la benzina, diciamo ancora, si può circolare, vengono bloccati solo agli Euro 0. Sì, sì, sì. Forse è giusto, forse, non lo so, sinceramente. Se inquinano, sì, se inquinano. Mi dispiace per chi ce l'ha. Lei che mezzo ha? Io a benzina. Prima avevo un diesel, poi l'ho cambiato perché inquinavo, ma poteva essere ancora nei limiti. Sì, è giusto, per la natura è giusto anche. Io penso che un po' sia giusto, dai. Per cercare di salvaguardare un attimo quello che è l'ambiente perché siamo troppo presi da un respiro proprio affaticante, secondo me. Con cosa ti muovi? Io in bici. Vorrei pure che altre città si muovessero così, però purtroppo le grandi città non è possibile. Però qui c'è questa bellezza della ciclabile, secondo me tutti dovrebbero usarla più spesso, credo. Per me va bene, io non ho la macchina, però va bene. Per me va bene. Per l'ambiente? Per l'ambiente tutto, i scarichi del godo. Che ha magari qualche difficoltà con il lavoro, che magari con i mezzi Euro 3 ci lavora, magari artigiani. Ah, sì, no, perché le fabbriche sono molto, sono in distanza, non sono in quel centro. Quindi diciamo per la zona blu non dovrebbero avere troppi problemi? Credo di no, tanto. Hanno chiuso nella zona blu gli Euro 3 a diesel, non si può più circolare, cosa ne pensi? A me è a metano. La sua è a metano, quindi lei può circolare? C'è di sì, eh. Per gli altri potrebbero avere dei problemi? Non lo so. No, magari è.